è in arrivo una bambina e lei crescerà sana e grazie a lei una famiglia potrà prosperare voglio sforzarmi di ricordare tutto i loro volti Sunja davvero non ti sei mai domandata come sarebbe stata la tua vita se avessi fatto scelte diverse nonna che cosa c'è? se qualcuno vi chiedesse di lasciare la vostra casa se vi chiedesse di voltare pagina potreste farlo e anche se nella vita dovrò lavorare fino a spezzarmi le unghie a mio figlio non mancherà mai nulla mai guardare indietro sempre avanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti